Allora, io mi presento, io sono un pilota e un istruttore di qui da segnatura di video sportive. Sono qua per farvi vedere due situazioni di emergenza e le quali vi spiego quali sono le manovre giuste e le manovre sbagliate. Andremo a vedere come si importa la macchina quando si fa un cambio di direzione molto repentino e quando si trova in una situazione da copertino. Io vi do queste indicazioni in maniera tale che poi voi, come vi hanno spiegato in aula, possiate andare sul sito Neopatentati e fare quella famosa formazione dell'airling e nel test finale magari ricordatevi anche di quello che vi ho detto io perché questo vi darà un vantaggio nel fare questo test finale. I migliori vincono un corso di guida sicura, ci sono 500 corsi di guida sicura in baglio che si faranno con un domanda.